Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Ma se esce 3 mi sparo. Oh madonna. Ok sto più traduttivo. Oh siamo rientrati. Ciao cascione. È 11 già. Ma come? Ma porco Dio. Mi sa che... Mi impazzisco. Perché te lo meriti il livello 3, quindi ti meriti il mio vile denaro. 19,99 euro. 5 giorni lo giornale. Dammi un 8, porco Dio. Dammi un 8, ti prego. Dammi un 8, dammi un 8. Vabbè, vabbè. Vabbè. Allora, allora. Si poteva fare di più, però si poteva fare di mio. Erano 1000 euro di vittoria. Però già, ma poteva non manco fancazzo. Mica la prima volta, voglio dire. Questo sarebbe il momento in cui io spenderei quei 40 euro veramente da pazzo. Tipo 20 e 20. E poi me ne andrei i coglioni da questo gioco. No, certo. No, no, bono. A noi, frate, ci serve un lightning bolt. Cristiano. Cristiano. Cristiano Spadaci. Cristiano Spadaci. Ci conosciamo da una vita. Oh, 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 oh. Marciò, 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 marciò. Cristiano. Fa, da, ci, di. Fa, da, ci, di. Fa, da, ci, di. Let's go, let's go, let's go. Cristiano. Io sono in trale. Ma come è entrata? Eh, ma ci ha messo 8, già. Hog. La vita è una merda. Che vuoi fa? Marzo? Un po' 250 euro, Marzo, è una polpa gratis. Sei tuoi senti? Francesco! Francesco! Marza! No! Stripitoso! Spizzingrillo in chat per dimostrare che non è vero. Però sembra, sembra realistica la cosa. Perché abbiamo due alerte per le cinque subgiftate e che cazzo ammanaggia la madonna Oddio la roccia sulla roccia no non l'ho vista porco dio la roccia sulla roccia allora Ragazzi mi potrei dare una botta ve ne prego ragazzi potrei potrei avere una botta Vedi fra una settimana che ti succede Vedi fra una settimana che ti succede Ah si la dirti Sanchez la spiego subito La magica dirti Sanchez dopo aver consumato un rapporto anale con la compagna Di segnare con il fallo dei buffi paffi dopo aver intento il membro nella sua materia fecale Ottenendo il tipico look Sanchez Che cazzata porco dio ma perché mi fanno ridere queste puttana Ma che merda è Il coniglio Luca grazie P13 Francesco Marzano vi insegna come vincere 200 euro Lì Sharingan Marzano 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 Ma lei è sexy È sexy Marzano Volevo il percento Frate io l'ho visto da dove dai bonus che stavano chic e questa girava bene sta ruota Vabbè frate Che cazzo faccio 24 7 su twitch a guardarmi il streaming dell'artri Non devi romper cazzo Vaffanculo ma guardati gioca Fai il glide Poi c'è il mio 6 se vede dopo Il glide bro 6 ore di glide Mi sa che non l'ha presa bene Marzano Ma comunque ci sono arrivato Zazzò Bella veloce È la bella E stasi traietta Dice Chiaro e forno 7 triggeri Marco lì E me gif di 100 sub Mi lecchio Pablo Gui Man Cubano Bentornate No ma frate Vuole far uscire il 0 e il 21 Li vuole far uscire per forza Non vuole sentire ragioni Marzano Eh tanto non ci sta giocando a lui Grazie per i 100 Oh la puntata stronza La puntata stronza Ma come è possibile È la puntata stronza Frate Nextare subito il prossimo La caca Mannaggia Madonna Senti vado Tu quindi hai attaccato Ok Sì sto cercando di chiamarti su is No boh Sto cercando di chiamarti su discord Ma non mi sai rispondere Ah ok aspetta Fammi entrare volante su discord Sì 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 Sto cercando di chiamarti su discord Facucci Acuna matata Per ricordarti anche se piove Che ho una splendida giornata Acuna matata Un ciccio pieno è sempre tempo di una Ma non pensavo fosse così Dio d'orca 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 Dio d'orca